Avery, aspetta. Ecco, Dr. Sloan, mi dispiace. Dobbiamo parlare. No, devi scusarmi. No, lei non ha nulla di cui scusarsi. No, penso di dovermi scusare. No, no, non è colpa sua, ma mia. Sono stato... Credo che abbiamo avuto... Senti, prima parlo io e poi parli tu, ok? Sì. Voglio essere il tuo maestro. Voglio essere suo allievo. Ho una ricostruzione di volta cranica domani. Ci sarò. Bene. Bene. Grande. La banda dei plastici è tornata in azione. Spatichiamo chirurgicamente le chiappe a tutti e regniamo. Sì. Allora, va bene? Andrà alla grande. Ok. D'accordo. Guida con prudenza.